Mettere radici, essere radicato, andare alla radice. Inevitabilmente nel nostro modo di parlare le radici sono collegate a un concetto di fissità e di ancoraggio. Ovviamente tutte le piante, la maggior parte delle piante, si ancora al substrato tramite radici. Quindi le piante sono un po', le potremmo considerare l'equivalente di altri organismi sessili, come una spugna, come una gorgonia, come una madrepora per esempio. Non a caso quando spugne, gorgonia e madrepore sono state scoperte qualche secolo fa, inizialmente erano state attribuite al regno vegetale, in virtù appunto della loro sessilità, del fatto di essere ancorate. Però viene subito da chiedersi perché le piante sono immobili o perlomeno noi pensiamo che siano tali? Guardando agli infiniti vantaggi che il movimento dà agli animali, potremmo chiederci se gli stessi vantaggi potrebbero essere allargiti dal movimento anche a una pianta. Una pianta in grado di muoversi, ad esempio, potrebbe allontanarsi all'approssimarsi di un erbivoro che si voglia nutrire dei suoi tessuti, oppure in caso di siccità potrebbe appropinquarsi alle rive di un lago o di un fiume per approvvigionarsi di acqua, oppure potrebbe andare alla ricerca di un partner e con quello scambiare gameti e dare origine a della prole di successo. Ciò nonostante noi dobbiamo constatare che la maggior parte delle piante di fondo appare immobile. Alla radice dell'immobilità delle piante molto probabilmente c'è la loro condizione di organismi autotrofi. Autotrofo è parola di origine greca che significa mi nutro da me. Ovviamente la capacità delle piante di nutrirsi da sé è un po' un eufemismo, le piante si nutrono da sé in virtù della loro abilità a intercettare la luce solare e a trasformare parte dell'energia contenuta nella radiazione del sole in altre forme di energia chimica. Questa è una condizione estremamente antica, probabilmente risale a prima di 800 milioni di anni fa e probabilmente ha a che fare con il fatto che gli antenati delle attuali cellule vegetali siano riusciti a dotarsi di un organulo, il cloroplasto, in grado di intercettare la radiazione luminosa, oppure abbiano fagocitato e conservato al loro interno, secondo l'intrigante teoria dell'endosimbiosi, un qualche microorganismo che aveva questa cosiddetta capacità fotosintetica. I pigmenti fotosintetici sono attualmente presenti in gran parte delle piante note e, per intercettare al meglio la luce solare, sono evidentemente presenti all'interno di strutture laminari, le foglie. Conseguentemente è abbastanza facile comprendere che la struttura, l'anatomia, la morfologia esterna di una pianta tenda ad assomigliare a quella di un'impalcatura ottimale per reggere le foglie in modo che percepiscano al meglio la luce solare. Conseguentemente, come direbbero gli animali, le piante non hanno né capo né coda, non esiste evidentemente un'estremità cefalica che serva a inseguire la preda, non esiste una coda che serva da propulsore perché semplicemente siamo in presenza di una sorta di candelabro che regge le superfici fogliari in posizione ottimale per essere colpite dalla radiazione. Se essere fermi è, per così dire, una necessità fisiologica della pianta, ovviamente il mondo attorno a una pianta che si accresca può ovviamente cambiare e di conseguenza quelle che potevano essere condizioni ottimali in fase iniziale possono trasformarsi. Con una velocità che non è comparabile a quella degli animali, gli individui vegetali sono comunque in grado di muoversi. Sono in grado di torcere, di allungare, di accorciare, di protrarre parti del loro corpo nei limiti del possibile per cercare di mantenere le foglie o altri apparati, gli steli, i fiori, i frutti in condizioni ottimali. Ovviamente non siamo in presenza di un sistema nervoso, non esiste un neurotrasmettitore, il movimento non ha nulla di comparabile in termini di rapidità con la contrazione di un muscolo animale. Ciò nonostante è un movimento ed è un movimento mediato da sostanze chimiche presenti all'interno della pianta. Sostanze chimiche che hanno principalmente a che vedere con lo sviluppo dei tessuti vegetali e con il turgore, ovvero sia la pressione idrostatica all'interno dei tessuti stessi. Chi per professione si occupa della fisiologia dei movimenti delle piante, i veri botanici, affermano che appunto le capacità motorie delle piante ricadono fondamentalmente in due categorie, i cosiddetti tropismi e le nastie. I tropismi sono i movimenti direzionati verso o via da uno stimolo, le nastie sono movimenti innescati da uno stimolo ma la cui direzionalità poi non ha nulla a che vedere con lo stimolo stesso. Dei tropismi facciamo tutti facilmente esperienza quando poniamo una pianta sul balcone. Una qualsiasi pianta di vaso posata sul balcone dopo un certo numero di giorni la troviamo orientata con il fusto che si piega verso la fonte luminosa. Questo è evidentemente un fototropismo positivo, fototropismo perché è la luce che innesca questo tipo di reazione, positivo perché la pianta sta andando, sta cercando di andare verso la luce ed è funzionale evidentemente alla migliore esposizione delle foglie all'arrivo dei raggi solari. Dietro questo movimento che non è mediato da un neurotrasmettitore ci sta in realtà un ormone vegetale. All'interno delle cellule vegetali esistono molecole in grado di recepire la direzione della lunghezza d'onda e di provocare lo spostamento di altre molecole nelle porzioni in ombra, nelle porzioni meno illuminate della pianta. Tra le molecole che vengono spostate in questa porzione in questa porzione meno illuminata, in questa porzione in ombra ci sono le auxine che sono dei semplici ormoni vegetali responsabili della crescita, dell'aumento dimensionale o numerico delle cellule vegetali. Quindi se nella porzione in ombra di una pianta aumentano le auxine, quella porzione si allungherà e inevitabilmente per riflesso la pianta si curverà verso la fonte luminosa. Ovviamente i fototropismi sono ovunque, li sperimentiamo quotidianamente e ci sono alcune piante spettacolari ed estremamente noti, i girasoli. I girasoli in fase di fioritura sono preda di un continuo fototropismo per cui l'asse fiorale viene continuativamente ruotato per seguire il movimento apparente del sole nel cielo diurno. Un altro per così dire banale tropismo di facile constatazione per chiunque di noi è il geotropismo, negativo ad opera dei fusti delle foglie dei fiori, positivo ad opera delle radici, ovvero sia il movimento per cui le radici si approfondano nel terreno e al contrario i fusti, le foglie e i fiori si allontanano dal substrato. Anche del geotropismo possiamo facilmente fare esperienza quando ad esempio in montagna su un pendio notiamo come alberi annosi quali vecchi larici o vecchi abeti rossi fuoriescano dal suolo e poi con una sorta di quella che viene definita una sciabolatura si curvino e si direzionino verso l'alto, ovvero sia l'asse di crescita non è un asse ortogonale al pendio evidentemente ma un asse contrapposto alla forza di gravità, quindi appunto un geotropismo negativo. Tendenzialmente il geotropismo prevale sul fototropismo. La maggior parte delle piante cresce secondo l'asse attraverso il quale si espletta la forza di gravità a qualsiasi latitudine del pianeta, sia che ci troviamo all'equatore, sia che ci troviamo in prossimità del circolo polare artico, con una sola curiosa eccezione, Araucaria columnaris, una conifera dell'emisfero australe che in virtù della sua pregevolezza di aspetto è stata piantata anche in molti giardini dell'emisfero boreale. Per ottimizzare l'orientamento della sua chioma nella direzione dalla quale provengono i raggi solari, la Araucaria è in grado di curvare il suo fusto fino a circa 8 gradi verso sud nell'emisfero boreale e ovviamente l'opposto 8 gradi verso nord nell'emisfero australe. Dopodiché sopravvengono evidentemente dei problemi di stabilità e l'inclinazione della pianta non va oltre. Un terzo tipo di tropismi che ci lasciano sempre stupiti sono i cosiddetti tigmotropismi, ovvero sia i movimenti con cui alcune parti, per così dire avvolgenti, ad esempio i viticci delle piante reagiscono al contatto con il substrato su cui si avvolgeranno. Ovviamente anche il tigmotropismo determina una crescita differenziale, nel tratto di contatto la pianta cresce meno, dalla parte opposta cresce di più e questo ripetuto in continuazione determina l'avvolgimento. Esistono piante che si avvolgono in senso sinistrosso e piante che si avvolgono in senso destrosso. I tropismi sono orientati dallo stimolo, le nastie sono solo innescate dallo stimolo, quindi sono indipendenti dalla sua direzione di provenienza. Forse la nastia di cui è più facile fare esperienza nella vita quotidiana è la cosiddetta nictinastia, ovvero il fenomeno per cui molti fiori si chiudono al tramonto e si riaprono all'alba e anche molte piante nel corso della sera raccolgono il loro fogliame. Il tamarindo è un classico esempio e la mattina dopo le riaprono, le distendono di nuovo. Altre forme di nastie sono quelle che hanno a che fare con il contatto e con il calore o al contrario con le basse temperature. Le prime si chiamano tigmonastie e le altre termonastie. Nel caso delle tigmonastie chiaramente il contatto potrebbe essere potenzialmente con un organismo interessato a nutrirsi dei tessuti vegetali, quindi la pianta in questione reagisce accorpando il fogliame cercando di raccoglierlo, di allontanarlo dalla potenziale fonte di pericolo. Un esempio facilmente esperibile per chiunque viaggia ai tropici è quello della mimosa pudica, una piccola fabacea, una mimosa erbacea che è un infestante ai bordi delle strade e che sfiorata accidentalmente ci lascia sorpresi raccogliendo tutte le sue piccole foglie composte. Le termonastie sono molto evidenti in piante d'alta quota. Chiunque si avventuri sulle montagne delle fasce intertropicali, seneci o lobelli e giganti, le vede aprirsi nel corso del giorno e poi richiudersi a sera. Di nuovo le foglie raccolte sono evidentemente meno esposte all'aggressione del gelo. Tutte le nastie prevedono fondamentalmente delle variazioni nel turgore, quindi nella pressione all'interno delle cellule della pianta e sono, per quello che se ne sa, abbastanza complesse, ma di fondo sono mediate dall'azione dell'ione calcio. Tramite processi complessi di osmosi la concentrazione di questo ione viene aumentata o diminuita e di conseguenza la pressione all'interno delle foglie o comunque dei tessuti interessati. Se anche un individuo vegetale, grazie a questi movimenti, riesce a risolvere al meglio tutte le questioni della sua interazione con l'intorno, prima o poi, come qualsiasi animale, è condannato a morire e quindi inevitabilmente ha la necessità di lasciare in qualche forma copia dei suoi geni, di lasciare una progenie. Le piante, molto più degli animali, si sono specializzate in forme di riproduzione vegetativa, ma la forma di riproduzione vegetativa è poco funzionale, evidentemente, a compensare delle modifiche nell'ambiente. L'ambiente continua a cambiare e la forma di riproduzione sessuata, quindi mescolando il proprio genoma con quello di un altro individuo, è l'unica via che tutti gli organismi viventi hanno per, in qualche modo, contrapporsi a favore alle variazioni ambientali. Quindi anche le piante hanno riproduzione sessuata e la cosa interessante è che le origini della riproduzione sessuata delle piante assomigliano straordinariamente a quelle degli animali. Quelle che con un termine poco gentile e poco professionale potremmo definire le piante arcaiche, ovvero le specie che ancora non si sono affrancate dalla vicinanza con l'acqua perché i loro tessuti non sono in grado di opporsi alla disidratazione, per intenderci i muschi e le felci, che quindi sono costretti a vivere costantemente in ambiente umido, talvolta al di sotto di un velo d'acqua, si riproducono esattamente con modalità analoghe a quelle degli animali acquatici, ovvero producono cellule cosiddette maschili, gli spermatozoi o spermatozoidi in termine botanico, e cellule femminili, ovuli. Gli spermatozoidi, grazie a un flagello, analogamente agli spermatozoi animali, sono in grado di muoversi attraverso il velo d'acqua e di raggiungere l'ovulo. Nella misura in cui essere dotati di un moto flagellare autonomo sarebbe servito poco agli spermatozoi vegetali sulla terraferma, le piante compattano i loro gameti all'interno di strutture di resistenza note come granuli pollinici. I granuli pollinici vengono prodotti in quantità spropositate dalle piante maschili e conseguentemente le piante si possono permettere di disperderli alla ricerca degli individui femminili, appoggiandosi a diverse forme di trasportatori, di carrier, di agenti in alcuni casi come il vento, come l'acqua, che distribuiscono a caso questa nube pollinica nella speranza che il polline di una pianta arrivi sull'ovario di una pianta femminile della stessa specie e dia origine alla fecondazione. Molte piante però, nonostante il polline sia per così dire del materiale a perdere, preferiscono imboccare delle vie un po' più sicure, un po' più garantiste e affidarsi a dei trasportatori specializzati, ovvero sia a degli organismi, tendenzialmente sono organismi animali che in virtù della loro attività spostano il polline da una pianta, diciamo così, da una pianta maschile a una pianta femminile appartenente alla stessa specie. Ovviamente il carrier, il trasportatore animale, non ha nessun interesse in questo tipo di trasporto. Il trasporto spesso avviene in maniera passiva, ma il trasportatore deve avere una qualche forma di interesse, una qualche forma di remunerazione nel frequentare in successione due piante della stessa specie. Il materiale usato come ricompensa quasi sempre è una soluzione zuccherina estremamente energetica, nota come nettare, ma le piante si specializzano negli organi che producono questo nettare e nella loro ubicazione all'interno dell'anatomia del fiore, per cui una sola specie di insetto, di rettile, di mammifero o di uccello è in grado di raggiungere con il proprio becco, con le proprie antenne, con le proprie mandibole quella porzione del fiore per accedere a quel nettare. Uno dei casi più eclatanti del rapporto uno a uno tra impollinato e impollinatore è quello della cosiddetta orchidea di Darwin, una specie appariscente e rimarchevole non tanto per la fioritura, è un'orchidea cosiddetta dai colori eburnei, bianco-giallastro, bensì per l'estrema specializzazione nel lungo sperone all'interno del quale viene prodotto il nettare. Quando venne scoperta nelle foreste del Madagascar, il lungo sperone lasciò pensare subito a Darwin che evidentemente doveva esistere, probabilmente una farfalla con una lunga spirotromba in grado di arrivare al fondo dello sperone. Quando Darwin scoprì e si interessò a questa orchidea, la falena non era ancora nota e venne scoperta approssimativamente 40 anni dopo. Gli scopritori la battezzarono Xantopanna Morgani Predicta, dove il termine predicta allude al fatto che appunto l'intuizione di Darwin aveva supposto l'esistenza di questa specie ancora prima che qualcuno la individuasse in natura. Che sia stata affidata al caso o a un trasportatore professionista, ipotizziamo che la fecondazione sia andata a buon termine e di conseguenza la pianta madre si trova ora portatrice di una serie di embrioni per i quali dovrebbe in qualche modo garantire un futuro radioso. Evidentemente questi embrioni, che di nuovo la pianta impacchetta all'interno delle cosiddette capsule di resistenza, cui noi diamo il nome banale di semi, potrebbero tranquillamente cadere, germogliare e svilupparsi ai piedi della pianta madre. Di sicuro questo sarebbe una garanzia di incontrare un ambiente favorevole, ma sulla lunga scadenza è palese che crescere accanto ai propri genitori aprirebbe il pericoloso capitolo della competizione intraspecifica. Probabilmente anche con l'eventualità di finire in un ambiente in parte ostile è dunque meglio in qualche modo allontanarsi dai propri genitori. E anche per questo le piante hanno adottato soluzioni diverse. Affidano la cosiddetta dispersione dei semi sia a degli agenti atmosferici, che sono a tutti gli effetti dei dispersori casuali, tendenzialmente il vento, la pioggia, a volte l'acqua, alcune piante acquatiche affidano la dispersione dei propri semi al flusso dell'acqua, oppure a dei dispersori professionisti, di nuovo a degli animali che si spostino dopo aver in qualche modo frequentato la pianta genitrice. Ma perché mai di nuovo un animale dovrebbe disperdere i semi, o perché ne è un trasportatore passivo, molti semi sono dotati di sostanze appiccicose della loro superficie che ne permettono l'adesione al pelame o al piumaggio degli animali. Altri sono dotati di uncini, un esempio classico è la bardana che rimane attaccata ai pantaloni ogni volta che facciamo una passeggiata nei campi, oppure in alternativa essere allegati a una succosa ricompensa. Molte piante, come dire, dotano i semi di un succulento packaging rappresentato dai tessuti succulenti che vengono depositati dalla pianta madre attorno al seme. Inserire il seme all'interno di un frutto succulento significa evidentemente però esporlo al passaggio attraverso il tunnel dell'orrore rappresentato dal sistema digerente dell'animale che si nutre di quei frutti. Molti semi sono adattati a questo, addirittura alcune specie germinano solo dopo essere stati aggrediti dagli agenti chimici presenti nello stomaco o nell'intestino degli animali che si tutelano dei relativi frutti. Ovviamente il seme potrà venire poi depositato sul terreno spesso a grande distanza e cominciare anche con tutti gli interrogativi del caso una nuova esistenza autonoma. Nella maggior parte dei casi i semi o i frutti all'interno dei quali sono contenuti sono strutturati per massimizzare le opportunità di trasporto lontano dalla pianta madre. Tuttavia esistono dei casi che ci lasciano un po' perplessi perché alcuni semi per dimensioni, per peso, per ingombro ci appaiono difficilmente trasportabili da qualcuno lontano dalla pianta genitrice. Questo decisamente voluminoso è il seme della palma Coco de Mer, l'Odoicea Maldivica, probabilmente il semi più grande al mondo. È palese che con queste dimensioni e questo peso non sia particolarmente vocato ad essere trasportato lontano dalla pianta madre. Come ovviare? Questo seme utilizza parte delle risorse contenute al suo interno per produrre un lungo pseudofusto che permette alla futura piantina di svilupparsi a una distanza tra i 4 e i 10 metri dalla pianta madre. E per di più questo pseudofusto è in grado anche di arrampicare, quindi di far sì che la pianta figlia si sviluppi a monte rispetto alla pianta madre. Una discreta mobilità è raggiunta in maniera autonoma. Ovviamente da animali siamo un po' portati a sottovalutare i movimenti delle piante, li confrontiamo con la rapidità di una nostra contrazione muscolare. Purtuttavia dobbiamo semplicemente spostare il punto di vista. Le piante sono in grado di muoversi a livello di individui, sono in grado di movimentare i loro gametti e sono in grado di spedire la propria prole in un luogo che possibilmente sia consono nello sviluppo degli stessi.